Buone notizie sul fronte Covid-19 da Caselle in Pittari, dove nelle settimane scorse sono stati registrati diversi contagi. Non sono mancate le solite polemiche e le solite accuse, ma finalmente sembrerebbe passato il peggio. Gli ultimi dati ufficiali sulla vicenda evidenziano come si stia quasi completamente spegnendo il focolaio Covid nel piccolo borgo cilentano. Lo rendono noto dall'amministrazione comunale dei 23 contagi iniziali. 19 sono completamente guariti ed è stata loro revocata l'ordinanza di quarantena, mentre per altri due, già da tempo clinicamente guariti, si aspettano i due tamponi di controllo per revocare la medesima ordinanza. Per quanto riguarda invece le due donne ricoverate, le loro condizioni di salute non desterebbero preoccupazione, stanno bene e si riprenderanno a breve. Da Caselle in Pittari dunque arriva un messaggio chiaro e preciso. La delicata fase emergenziale vissuta nelle scorse settimane è sul viale del tramonto. Manca poco alla vittoria della battaglia, una vicenda che lancia un messaggio ben preciso. Il Covid, nemico insidioso e invisibile, può essere sconfitto se non lo si sottovaluta e soprattutto se tutti adottiamo le necessarie misure di prevenzione individuali.